Operazione Agora, i carabinieri del Rossi, i carabinieri del comando provinciale di Siracusa, oltre 50 misure cautelari, un duro colpo per quel che riguarda la provincia di Siracusa al clan Nardo. Oggi è decapitato il clan Nardo, sono oltre 50 misure che interessano il clan Nardo e le famiglie del Crono Santa Paola, le famiglie di Caltagirone e di Catania. Possiamo dire oggi effettivamente di aver assestato un colpo durissimo al clan e alle relative attività imprenditoriali. Droga, controllo del tessuto imprenditoriale, diciamo i due filoni di interesse del clan? Allora, droga sicuramente, controllo del territorio, gestione monopolistica del trasporto dell'ortofrutta su gomma in Sicilia e in Italia, estorsioni mirate nei confronti di alcune attività imprenditoriali, tutte documentate dalle attività investigative sia tecniche sia tradizionali eseguite dai militari del comando provinciale e che ci consentono appunto oggi di stroncare i livelli apicali e non del clan. Un'operazione che parte da lontano, che prende le mosse da una precedente inchiesta? E' una naturale evoluzione dell'operazione Ciaos, quindi risale al 2018 l'esordio di queste attività e oggi si concludono con l'arresto di oltre 50 persone. Determinante anche il ruolo dei collaboratori di giustizia? Determinante il ruolo dei collaboratori di giustizia, però ripeto, accanto alle dichiarazioni rese da Costoro c'è tanta tanta attività d'ascolto, intercettiva che poi verrà fuori ovviamente attraverso la discovery processuale, anche in ambiti dove loro si sentivano protetti, si sentivano sicuri, si sentivano tranquilli. Il nome Agoran nasce dal fatto che in determinate attività, in un'officina meccanica, loro si sentivano come in una piazza e quindi erano nelle condizioni, secondo loro, di poter parlare serenamente e tranquillamente, in realtà noi li ascoltavamo e oggi li siamo andati a prendere a casa loro.